Musica Sanità a gemelli, caso radioterapia, senza una soluzione, a rischio 160 posti di lavoro. Tavolo in prefettura, aggiornato ad aprile, dopo il faccia a faccia che il commissario avrà con i ministeri della salute e dell'economia. Caso Surroga, Micone, convoca Tedeschi e Disandro. In giunta, in corso una riflessione. Il presidente della regione si consulta con pallante e dilucente. Non sono esclusi clamorosi colpi di scena. Piano urbano del traffico. Il comune di Sernia vuole rivedere le strisce blu, ma non prima di aver interpellato i cittadini. Cultura vasto pensa in grande. L'assessore della gatta parla di ambiziosi progetti. Il bassista dei Pink Floyd, Guy Pratt, sarà a Campobasso l'11 marzo e a Sernia il 12 per un concerto. E sempre in Molise girerà un film. Ad Agnone si punta sul turismo delle radici. Calcio Campobasso atteso dalla sfida col Campomarino, il DS De Filippis. Attenzione, è una buona squadra. Domani in campo Magnolia, Spike e Cus. Ben trovati con l'informazione di Teleregione. Lo avete sentito dai titoli. C'è la sanità in apertura. Nessuna soluzione nel lungo confronto in prefettura per il Gemelli Molise. Resta la distanza con il commissario Donato Toma, mentre a rischio ci sono 160 posti di lavoro. Sentiamo. La situazione resta critica e sembra non intravedersi una via d'uscita per risolvere il caso Gemelli, struttura privata del capoluogo che due giorni fa ha annunciato lo stop ai ricoveri dei nuovi pazienti oncologici. Nemmeno la lunga riunione in prefettura è servita a delineare una soluzione per la radioterapia. Resta la distanza sul budget, mentre in bilico ci sono circa 160 dipendenti. Confermato il muro contro muro tra il commissario ad acta Donato Toma e il Gemelli, rappresentato al tavolo in prefettura dal presidente Stefano Petracca, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni dopo il vertice convocato oggi dal prefetto Michela Lattarulo. Nervi tesi e toni in alcuni casi accesi durante il confronto, iniziato alle 12.30 e finito poco prima delle 16. Il presidente Donato Toma ha intenzione di portare il caso a Roma. Il tavolo è ancora aperto, stiamo lavorando per risolvere tutti i problemi. E sul mantenimento dei livelli occupazionali, il presidente commissario ad acta dice solo. Stiamo lavorando per garantire. Per una soluzione tutto è stato rinviato al prossimo aprile. Il 18 si svolgerà il nuovo tavolo tecnico e nei giorni successivi, il 19 o il 20 aprile, si dovrà tenere un nuovo confronto in prefettura. Ecco perché i sindacati non hanno nascosto il loro scetticismo sull'esito del summit di oggi. La situazione è difficile e complessa, quindi il tavolo rimane aperto e stiamo lavorando tutti insieme per risolvere sia la problematica occupazionale e il servizio che deve essere garantito ai cittadini. Rimane una situazione abbastanza complessa, però il tavolo rimane aperto e ci aggiorniamo a metà aprile, a meno che succedano delle cose prima dove ci vediamo costretti poi a chiedere di nuovo l'intervento del prefetto per trovare soluzioni. Ma una soluzione è possibile, è raggiungibile? Le parti sembrano abbastanza distanti. Io sono fiducioso. Anche perché a rischio ci sono 160 posti di lavoro. Non si è mica parlato di esuberi in questa occasione, si è parlato di tutto e di più ma adesso questa è una cosa che potrebbe arrivare in futuro ma oggi sul tavolo non è stato trattato questo argomento. E i sindacati FPCGL, FPCISL e UIL FPL hanno diffidato Villa Maria per il mancato pagamento dello stipendio di gennaio ai dipendenti. Non sono stati rispettati gli accordi nonostante l'ASREM abbia provveduto a liquidare gli acconti. Scrivono in una nota congiunta Amantini, Valbona e Corbo. I sindacati invitano a provvedere immediatamente alla corrisponzione della mensilità anche in considerazione dell'imminente pagamento dello stipendio di febbraio che dovrebbe essere saldato entro il 10 marzo. Nel contempo le organizzazioni sindacali diffidano la casa di cura sottolineando che qualora non ci sia un riscontro positivo adiranno le vie legali nelle strutture competenti. Mentre in consiglio regionale sono state perfezionate le procedure per la convocazione di Tedeschi e di Sandro per la seduta di martedì in giunta è in corso una riflessione sul da farsi e non si escludono sorprese nell'esecutivo. Da alcuni dei surrogati, ha detto il presidente Toma, ho sentito dichiarazioni belligeranti. Stiamo valutando il da farsi. Sentiamo. Il vertice di Palazzo Daimmo ha convocato Antonio Tedeschi e Filoteo Di Sandro per la seduta di martedì 7 marzo. È la Cassazione che l'ha deciso non io. A me tocca, ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, dare attuazione al pronunciamento della Suprema Corte. I giudici, ribaltando i verdetti di Tribunale e Corte d'Appello di Campobasso, hanno accertato il diritto dell'esponente dei Popolari e del coordinatore di Fratelli d'Italia di subentrare in aula agli attuali assessori Vincenzo Niro e Quintino Pallante perché l'abolizione della surroga votata da Centrodestra e Cinque Stelle nel 2020 non può che valere dalla prossima legislatura. A Palazzo Vitale invece è in corso una riflessione sul da farsi. Si lo conferma il governatore Donato Toma. Accogliamo le due sentenze e stiamo ragionando, riflettendo sulla situazione politica, sugli equilibri politici e si devono fare dei ragionamenti con i partiti e li faremo. Toma ha riunito la Giunta e dagli assessori, in particolare Niro e Pallante, che sono i diretti interessati oggi dalla sostituzione, ha ottenuto fiducia rinnovata, non si sono dimessi, ma lui può decidere liberamente se revocarle in sostanza in base a queste valutazioni che il Presidente dell'Esecutivo consegna alla stampa. Allora, intanto ho letto un po' di dichiarazioni fatte da alcuni attori di questa vicenda, molto, diciamo, polemiche e belligeranti e ho letto anche di cose non esatte, anzi non vere. Poi chiariremo anche alcuni aspetti politici su accordi che erano stati fatti fra i tre partiti. Agli accordi li dovrebbe conoscere il Presidente e li dovrebbero rispettare i partiti, non il Presidente di una Giunta. Ma questo lo chiariremo ai tavoli politici. E io ho una compagine di Giunta, ma una compagine politica molto coesa, per cui ogni decisione verrà presa insieme. L'unica incognita è quella dei tempi, variabile non indifferente, visto che i due supplenti, che per la Cassazione sono consiglieri regionali dall'aprile 2020 ad oggi e hanno quindi diritto comunque a quasi tre anni di indennità di carica, sono stati già chiamati. E in maggioranza le acque restano agitate dopo la sentenza della Cassazione che ha riportato in Consiglio regionale Antonio Tedeschi e Filoteo Di Sandro. Il Presidente Donato Toma ha convocato l'assessore Quintino Pallante, esponente di Fratelli d'Italia, e il capogruppo dei Popolari Andrea Di Lucente. È in corso una riflessione per trovare una quadra in maggioranza e nelle prossime ore non si escludono clamorosi colpi di scena. Giacomo Papa è il nuovo consigliere del Presidente della Regione Molise in campo giuridico, lo ha nominato lo stesso Governatore Donato Toma con proprio decreto. Lo scorso 22 febbraio Papa ha rassegnato le dimissioni da subcommissario alla Sanità del Molise avendo registrato nel corso della riunione presso il Ministero della Salute il venir meno delle condizioni che mi avevano indotto ad accettare l'incarico. L'incarico nuovo avrà la finalità di offrire un affiancamento e un supporto tecnico-giuridico al Presidente della Regione anche per l'attività di consulenza, predisposizione ed esame degli atti amministrativi, compresa la verifica di carattere giuridico delle proposte di delibera di giunta regionale, soprattutto in relazione alla necessaria natura di urgenza e improrogabilità degli atti adottati dall'esecutivo nel periodo elettorale. Parliamo del piano urbano del traffico. Il Comune di Sernia vuole rivedere le strisce blu, ma non prima di aver interpellato i cittadini. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Il Comune di Sernia ha intenzionato a revocare o comunque rivedere i parcheggi a pagamento. Ma non senza aver prima interpellato i cittadini. Questo, in sintesi, è ciò che dichiarano in conferenza stampa il Sindaco Piero Castrataro e l'assessore al ramo Ovidio Bontempo. Andiamo nella direzione del rispetto delle regole. C'è quello di modificare il piano urbano del traffico, capire se effettivamente le strisce blu e altre istituzioni che riguardano la mobilità cittadina servano o meno. Una fase partecipativa con i cittadini, importantissima cosa che non è stata fatta prima e non solo con i cittadini, ma con le associazioni, con tutte le categorie che possono dire loro, i commercianti, gli imprenditori e così via. Dopodiché, ritornando in Consiglio Comunale, prenderemo la nostra decisione. Quello che emerge è che, è chiaro, le strisce blu non stanno aiutando il traffico della città. Quindi vedremo all'esito dello studio che faremo le conseguenze, gli atti che dovremo adempiere in Consiglio. L'iter per la revoca o per la revisione delle strisce blu in tal modo si allunga, ma il Comune ha l'obbligo di tutelarsi anche rispetto ad eventuali azioni legali. L'interesse pubblico è quello che noi dobbiamo tutelare maggiormente. Questo processo, un pochino più lungo, viene fatto proprio perché non dobbiamo sbagliare né dal punto di vista tecnico che amministrativo. Durante la fase partecipativa, sicuramente la società che aveva vinto la cosiddetta concessione farà le proprie osservazioni, però dobbiamo sempre dire che l'interesse pubblico deve vincere su tutto. Gli investimenti promessi dalla ditta, che ha vinto l'appalto, non ci sono stati. Logica conseguenza dell'assenza di contratto. Castrataro promette che gli interventi saranno ugualmente effettuati coi fondi del PNRR. La società credo che abbia versato solo il primo semestre. Il Comune al tempo stesso non ha versato la parte che riguarda le multe e non ha mai ritenuto come credito quello che la società deve versare proprio perché non essendoci un contratto, anche dal punto di vista contabile, diventava difficile considerare queste somme. È chiaro che la situazione si è ingarbugliata tantissimo. Questo processo, seppur un po' più lento, serve proprio ad avere una situazione chiara e a poter operare nel futuro sia per i cittadini che per il Comune di Sernia, ma anche per la ditta che giustamente deve avere un orizzonte chiaro se continuare a gestire il servizio o se invece non continuare a gestire. In caso, direvoca, resta il problema dei lavoratori assunti dall'azienda per il controllo delle auto sulle strisce blu. Il Sindaco spiega che gli agenti della Municipale avranno comunque necessità di un ausilio nell'espletamento delle proprie funzioni. Sicuramente quello che faremo, i Serni hanno bisogno anche di un aiuto, i vigili attuali hanno bisogno di un aiuto. È previsto chiaramente che noi ci saranno i cosiddetti vigilini. Questo sarà fatto nel rispetto delle normali assunzioni anche se a tempo determinato. È chiaro che un'esperienza in campo può essere un punteggio in più, ma i bandi, come tutti i bandi della pubblica amministrazione, sono aperti. E cambiamo argomento. L'Ambiente deve rispettare le regole date con l'autorizzazione integrata ambientale e l'autorizzazione regionale del 2015, con limiti più stringenti alle possibilità di emissioni nell'ambiente rispetto a quelli previsti ordinariamente. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza pubblicata oggi, con cui è stata confermata la precedente sentenza del Tribunale amministrativo regionale del 2017, dando torto ad Erambiente, che contro la sentenza del TAR aveva proposto appello. In questo giudizio, e prima ancora in quello al TAR, come Comune di Venafro, insieme al Comune di Montaquila e alla provincia di Sernia, si sono costituiti insistendo per il rispetto delle regole e del principio di precauzione in materia ambientale. E abbiamo avuto ragione sia al TAR sia al Consiglio di Stato, ha dichiarato Alfredo Ricci. Sono soddisfatto di questo risultato, che conferma anche in sede giurisdizionale la condivisibilità della linea portata avanti da ormai dieci anni, dall'attuale e dalla precedente amministrazione, insieme alle associazioni e a molte delle istituzioni presenti sul territorio, non tutte in verità con la stessa coerenza, ha concluso il sindaco di Venafro. Siamo alla cronaca, parliamo dell'omicidio de Cesare. Alcuni giorni prima del delitto, tra Romina e il suo assassino, sono scambiati 218 sms. Intanto in aula arriveranno nelle prossime udienze anche le intercettazioni telefoniche e i colloqui in carcere tra Pietro Ialongo e i suoi familiari. Seconda udienza in tribunale a carico di Pietro Ialongo, presente in aula, accusato di aver assassinato nella notte tra il 2 ed il 3 maggio scorsi l'ex compagna Romina de Cesare nella casa che condividevano a Frosinone. Sono stati ascoltati i poliziotti che per primo intervennero sul luogo del delitto. Presenti in aula i familiari della vittima, l'associazione Libera Luna, parte civile nel processo per omicidio volontario aggravato dalla coabitazione. Il compagno di Romina che per primo si rivolse alle forze dell'ordine, non avendo notizie della donna ormai da alcune ore. Le 14 coltellate inferte sul corpo della vittima rappresentano l'epilogo di una escalation che trova il suo culmine nella giornata del 26 aprile, allorquando, come accertato dalle analisi sui tabulati telefonici delle utenze intestate a Romina e dal suo assassino, fra i due sono stati scambiati in poche ore ben 218 sms, escludendo i messaggi via whatsapp e le telefonate. Quel 26 aprile, sei giorni prima di morire, Romina torna a casa ma non riesce a girare la chiave nella toppa. Chiama il 112, racconta che l'uomo con il quale condivide la casa, il suo ex compagno, le impedisce di entrare. Chiede aiuto, ma cinque minuti più tardi chiede di annullare quella richiesta. Nell'udienza di ieri le parti hanno prestato il consenso al deposito del brogliaccio delle intercettazioni. Non servirà un perito quindi per la trascrizione. Saranno analizzate nel corso della prossima udienza in programma il 6 aprile. Intanto gli inquirenti hanno intercettato Pietro e la sua famiglia nella stanza per i colloqui del carcere dove è detenuto. Hanno captato le conversazioni nell'auto usata dai genitori dell'uomo. Hanno costantemente monitorato il telefonino del padre di Alungo. Durante la prossima udienza saranno ascoltati i carabinieri di Sabaudia intervenuti sul litorale di Anzio dove Pietro scappa dopo aver commesso l'omicidio della sua ex compagna. Sarà ascoltata anche la professoressa di francese che ha tradotto i messaggi che Romina scambiava con la zia che vive a Parigi. In aula ci saranno anche il medico legale incaricato dell'autopsia ed il collega che ha effettuato l'ispezione cadaverica. Firmato il protocollo tra Ace e Mance Molise e Associazione dalla parte degli ultimi sull'integrazione socio-lavorativa degli immigrati. Obiettivo del protocollo è quello di arginare il grave problema della carenza di mano d'opera nel settore dell'edilizia. L'Ance e Mance Molise e l'Associazione dalla parte degli ultimi proseguono l'attività di collaborazione finalizzata alla promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei rifugiati e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale con la firma di un protocollo di intesa. L'Associazione sta lavorando per gli associati su tutti i fronti. In particolar modo adesso ci stiamo occupando di questo problema della mancanza di mano d'opera nei nostri candieri e nelle nostre imprese. Con la firma di questo protocollo, con l'Associazione dalla parte degli ultimi, cercheremo di individuare soggetti da formare e introdurre nei nostri organici. Di che numeri parliamo se c'è già una stima? Parliamo di grandi numeri, di richieste di mano d'opera. Il protocollo con l'Associazione da parte degli ultimi viene rispolverato perché già l'avevamo sottoscritto un po' di tempo fa. Avvieremo questa collaborazione e io mi auguro che porterà sicuramente dei risultati. Già è partito, parte da oggi stesso con la firma, con la sottoscrizione e quindi siamo già operativi. Grande soddisfazione espressa anche da Loredana Costa, presidente dell'Associazione dalla parte degli ultimi. Una collaborazione stretta nella formazione finalizzata poi a un inserimento lavorativo delle persone che arrivano nel nostro paese e che sono accolte, nel nostro caso, all'interno di progettualità del tipo SAI, vale a dire del sistema di accoglienza e integrazione che è il sistema attraverso il quale gli enti locali partecipano all'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. In realtà noi in questo momento gestiamo diversi progetti per un totale di un centinaio di richiedenti asilo. Prevalentemente si tratta di uomini singoli in una fascia di età intorno ai 25 anni, quindi diciamo che avrebbero il profilo individuato anche per poter lavorare in questo settore e tra l'altro questo anche nella nostra regione credo che sia uno dei settori di maggior sviluppo economico. C'è mancanza di personale e questo protocollo aiuta un po' entrambe le parti? Sì, purtroppo assistiamo a una riluttanza delle nuove generazioni nel cimentarsi nel nostro settore e nell'avventurarsi lavorativamente nel nostro comparto e chiaramente con la mole di investimenti che è in programma nei prossimi anni, nei prossimi dieci anni, considerato soprattutto il PNR ma anche tenuto conto delle commesse che ci sono state sul super bonus ai noi oggi bloccato che sta vivendo sicuramente una situazione di stallo, comunque si è registrata e si registra una carenza strutturale di figure professionali da impiegare, da utilizzare nel nostro settore e questa è una situazione difficile che chiaramente va risolta. Il problema è stato segnalato anche a Lancia in più di un'occasione, anche alle autorità regionali, all'Aggiunta, al Consiglio regionale in più di una circostanza. Quest'iniziativa è uno sforzo per cercare diciamo di creare uno spiraglio, una possibilità per richiedenti asilo, per lavoratori stranieri e extracomunitari, dare loro una possibilità di formarsi grazie all'associazione dalla parte degli ultimi che appunto opera in questo campo e di poter entrare appunto nel nostro settore perché c'è una carenza stimata in 54 mila unità a livello nazionale. Ambiziosi progetti culturali sono in cantiere a Vasto, Pasquale Damiani ne ha parlato con l'assessore alla cultura Nicola Della Gatta. Sentiamo. Il comune di Vasto ha sempre puntato sulla cultura. Numerosi gli appuntamenti in programma anche per il 2023, come sottolinea l'assessore Nicola Della Gatta. Abbiamo portato avanti nel 2022 un lavoro importante a livello programmatorio perché come sapete il treno del PNRR sta passando e ci chiede per adottare e realizzare una riqualificazione di tutti i beni culturali comunali una programmazione seria. Accanto a questa una serie di iniziative, la promozione delle attività culturali che quest'anno verteranno secondo tre filoni. Anzitutto gli eventi che riguarderanno il sistema musicale. Basso è una città della musica, esperimenta i suoi linguaggi anche attraverso istituzioni pubbliche come la scuola civica musicale. Quindi torneranno i concerti di mezzanotte, ci saranno importantissime iniziative culturali e a livello proprio di eventi e manifestazioni. Poi il filone delle manifestazioni letterarie e quindi ben tre festival letterari che aggregheranno da giugno fino a settembre non solo la popolazione turistica ma anche la popolazione residente. E infine Palazzo d'Avalos che è la bomboniera e la cornice della nostra cultura che nelle sale del quarto della Marchesa restaurata in occasione del bicentenario paliziano del 2018 accoglierà ben quattro mostre nei locali che oggi stanno ospitando fino al 3 di maggio una mostra evento sul De Divina Proporzione e quindi incentrato sulla figura e le capacità del genio di Leonardo da Vinci. Una mostra che sta riscuotendo grandissimo successo, una mostra anche volutamente didattica e quindi sta facilitando l'adesione di tantissimi istituti scolastici del territorio e della città. E restiamo a Vasto dove questa mattina il sindaco Francesco Menna ha riconsegnato le chiavi della casa di riposo Santonofrio all'ASP, l'azienda pubblica di servizi alla persona con cui il comune di Vasto è titolare della struttura. Pertanto l'ASP potrà fare il bando per riaprire la casa di riposo. Molte persone in passato, ha dichiarato il sindaco Menna, sono state ospitate nella casa di riposo Santonofrio. Gli interventi realizzati hanno avuto l'obiettivo di rendere il plesso più sicuro e accogliente, sfruttando al meglio gli spazi disponibili e migliorarne la fruizione. Il bassista dei Pink Floyd, Guy Pratt, sarà a Campobasso l'11 marzo e a Isernia il 12 marzo per un concerto. In Molise girerà anche un film dal titolo Il Monaco, la Sirena e il Molise. Sentiamo. Il Monaco, la Sirena e il Molise. Alla Gill subito il colpo di scena in collegamento da Londra. Guy Pratt, il bassista dei Pink Floyd, sostituì Roger Waters dal 1987, dopo la sua uscita dal gruppo sarà in Molise per due concerti. al Teatro Savoia di Campobasso l'11 marzo, il giorno dopo all'Auditorium Unità d'Italia di Isernia. Musica di grandissima qualità, ma non solo, anche cinema. Una produzione anglo-italiana si è aggiudicata, infatti il bando regionale per le produzioni cinematografiche. Il Monaco, la Sirena e il Molise, il titolo del film che verrà realizzato e girato interamente sul territorio con attore protagonista, il musicista dei Pink Floyd. Cercavamo un territorio non troppo conosciuto, quindi anche il regista ha scartato subito, poteva essere l'Umbria, poteva essere la Toscana, poteva essere la Puglia, che tra l'altro si sta promuovendo parecchio per il cinema. Però il Molise, per un regista, era la novità. Cioè il fatto che lui potesse raccontare la storia attraverso dei paesaggi e delle immagini che non fossero già state usate in altri film è un punto di forza. I dettagli delle due iniziative sono stati illustrati questa mattina presso la sede dell'assessorato regionale al turismo e alla cultura, alla presenza del presidente della regione Donato Toma, dell'assessore al turismo, del regista del film Marcus Shepard e dell'attore coprotagonista Raffaello De Gruttola. Ma continuo la promozione della nostra regione a tutti i livelli. Questo è un altro degli asset del piano strategico del turismo. Attraverso un bando la regione Molise ha voluto incendivare il mercato tra virgolette dell'audiovisivo per mettere le basi sulla futura film commission del Molise. Questo è il primo film che presenteremo perché ne hanno partecipato e vindo ben 14 che avranno tutti quello che è l'obiettivo, la promozione della nostra regione. E questa mattina ad Agnone si è svolta la conferenza sul turismo delle radici. Ce ne parla Pasquale Damiani. Il turismo delle radici su questo specifico settore del turismo proveniente dall'estero si sta spendendo il Ministero degli Esteri in accordo con gli altri ministeri. Un fondo di 20 milioni del PNRR sarà destinato a questa misura. Il Molise, terra di emigrazione, si contano almeno 900 mila molisani fuori dai nostri confini. E sono proprio comuni al di sotto dei 5 mila abitanti che vivono seri problemi di spopolamento destinatari di questo probabile flusso turistico che si svilupperà a cavallo di questo biegno 2023-2024. Noi, tra l'altro, come Molise abbiamo una particolarità. Abbiamo la percentuale più alta di iscritti all'aere, cioè l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Stiamo al 31,2%. Nessuno è arrivato a questa percentuale. E significa che i nostri emigrati all'estero mantengono ancora saldo il rapporto con le proprie radici. Abbiamo scoperto questo, ma il Ministero ha rilanciato col PNRR, il Ministero degli Esteri insieme al Ministero della Cultura e del Turismo, ha rilanciato il turismo delle radici, che è sempre esistito, però ha dato una maggiore implementazione. Per la ripresa post-Covid si è pensato che, poiché gli italiani che sono di origine italiana e residenti all'estero sono circa 80 milioni, ma solo 10 milioni vengono in Italia ogni anno, portando un reddito tra l'altro di 5 miliardi di euro, se si riesce ad agganciare questo target turistico avremo sicuramente una ricaduta, soprattutto nei piccoli centri. Ed ecco perché il Molise, con la maggior parte di comuni a di sotto di 5 mila abitanti, ha questa necessità. Ecco perché ad Agnone, nel teatro italo-argentino, simbolo della vicinanza del popolo agnonese emigrato in Sud America, si parla di strategie per il rilancio del settore e delle azioni che devono mettere in campo gli attori locali per affinare l'accoglienza di questo particolare target. Oggi Agnone ha la più grande rete di marketing territoriale possibile, perché noi abbiamo circa 27 paesi sui quali abbiamo iscritti aere, sia le Americhe sia l'Europa. Quindi oggi noi dobbiamo riannodare i rapporti con queste seconde e terze generazioni, che possono rappresentare anche un'occasione di sviluppo nel momento in cui vedono i territori. Io stesso sono stato protagonista di una persona che è tornata a vedere la casa dove era nata la nonna e non nascondo che ha suscitato una forte emozione nel vedere questa persona commuoversi di fronte al portone di casa della nonna. Anche le scuole possono fare la loro parte con i patti educativi di comunità, possono orientare risorse per alimentare la conoscenza del territorio, le tradizioni locali, le emergenze culturali, la enago astronomia locale e consentire al turista di vivere un soggiorno alla ricerca delle proprie radici. Ne è convinto il professor Angelo Di Anni, già provveditore agli studi nell'Ontario e consulente del ministro dell'istituzione canadese. È da anni che portiamo studenti in Italia e vogliamo collaborare sia nella regione Molise come già collaboriamo con la regione Abruzzo. Ho visitato moltissime scuole, le ho trovato preparate, le ho trovate motivate nel voler fare e incrementare il numero dei corsi e il numero dei studenti che portiamo, oltre a studenti universitari e anche i genitori che vengono a trovare studenti. Ma parliamo di centinaia e centinaia di studenti che già portiamo in Abruzzo e che vorrei portare anche in Molise. E ora vediamo che tempo farà nelle prossime ore. Previsioni del tempo per sabato 4 marzo. La circolazione depressionaria responsabile di residuo e instabilità mattutina si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Venti moderati, mare da poco mosso a mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. Campobasso 2, la minima, 9 la massima. Iserni a 4,12 termoli, 9,11 venafro, 5,15 gradi. In Abruzzo miglioramento ma con ancora molte nubi. Venti deboli, mare da poco mosso a mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. L'Aquila 3, la minima, 9 la massima. Pescara 9,11 chieti, 6,9 teramo, 5,9 gradi. Ed è tutto con la nostra informazione. Grazie per l'attenzione. Vi lascio alle notizie di sport. Nello spazio curato da Pierluigi Boragine. Io vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram. Arrivederci. Siamo allo sport. Iniziamo con il calcio di eccellenza. Due gli anticipi di domani. Parliamo della ventitresima giornata. Questo è il quadro completo. Campobasso, Campomarino, Sesto Campano, Venafro. Si giocano, come dicevamo, domani. Fischio d'inizio alle 15. Domenica. Boiano, Alto, Casertano, Castel di Sangro, Real Guionesi, Gambatesa, Pietra, Monte, Corvino, Isernia, Virtus, Gioiese, Olimpia, Gnonese, Campo di Pietra, Turris, Aurora, Ururi. Dunque Campobasso in anticipo al Romagnoli contro il Campomarino. e poi mercoledì i quarti di finale di Coppa Italia Nazionale contro il Formia. Sentite. L'obiettivo principale è vincere il campionato e dunque l'obiettivo immediato è quello di battere il Campomarino atteso domani al Romagnoli. Meglio non fidarsi, le parole del DS Pino De Filippis. Hanno un buon attacco, serve grande attenzione. Al match di Coppa Italia l'operatore di mercato non ci pensa. L'obiettivo della società era quello di vincere il campionato e ci stiamo riuscendo, taglia corto. Quello che succederà in Coppa Italia, aggiunge De Filippis, è un altro discorso e ne inizieremo a parlare dopo aver affrontato il Campomarino. Mister Di Meo per la sfida di domani ha diverse defezioni. Non potrà contare sulla montagna, ancora i box perché infortunato. Stesso discorso per l'attaccante Fruscella. Out per squalifica invece. Il centrale Sabatino inforse il bomber Ripa, che deve smaltire i postumi di un risentimento muscolare. Sabatino e Ripa saranno sicuramente in campo a Formia, ma intanto bisogna superare il Campomarino per fare un altro decisivo passo verso la Serie D. È gara anticipata al sabato con Campomarino, no? Sì, anche per avere un giorno in più di riposo, per cercare di recuperare quanto più forze possibili. Chiaramente noi viviamo questi impegni ravvicinati con entusiasmo. Noi siamo felicissimi di poter proseguire questo cammino in Coppa. Quindi siamo contenti di dover affrontare una partita ogni tre giorni. Campobasso, Campomarino, sarà diretta da Michele Matarese della sezione di Termoli, assistenti di Tommaso di Sernia. E buona vita di Termoli. Quattro invece gli anticipi di domani nel torneo di promozione. Anche in questo caso si tratta della ventitresima giornata. Juvenes, Baranello, Altilia Samnium, Aesernia Fraterna, Ripa, Limosani, Atletico, San Pietro in Valle, Rocca, Ravindola, Bois, Vairano. Si giocano invece domani Montenero, scusatemi, Domenica, Montenero, Donche e Sagnone, Poli Sportiva Fortore, Poli Spetacciato, Spinete, Trivento, Termoli, Cliternina. Occupiamoci ora di nuoto, fine settimana di competizioni in vasca corta. Alla M2 di Campodipietra, sede del trofeo M2, la Kermess per tutte le categorie agonistiche, a partire dagli esordienti, rappresenterà uno degli ultimi appuntamenti nazionali indoor, sui 25 metri, in vista dei criteri giovanili, scusatemi, con la proiezione, ora che sarà sui 50 metri outdoor. Parliamo invece di basket, basket di serie A1 femminile, con il quadro completo della 22esima giornata e con l'anticipo tra Molisana, Magnolia, Campobasso e Crema. Le altre anticipi sono Ragusa, Faenza, San Martino, Dilupari, Brescia. Le altre gare si giocano invece domenica pomeriggio. Senza Perry e Millapicom, con la volontà di ritrovare il successo, la Magnolia Campobasso si proietta sul match interno, le ultimissime nel servizio di Vincenzo Ciccone. Cercare di provare a centrare il dodicesimo successo stagionale, in quello che sarà un marzo intenso, con 5 gare nell'arco di 22 giorni. La Molisana Magnolia Campobasso si proietta sul confronto interno con Crema, per ultima tappa all'arena del proprio percorso in regular season. Di fronte a Stelle e Rosso Blu avranno una formazione che ha vissuto un febbraio applausi, avendo vinto le tre gare del secondo mese dell'anno con Sesto San Giovanni, a Ragusa e con San Martino di Lupari. Dalla loro le Campobassane dovranno fare a meno delle infortunate Millapie e Perry, ma avranno una Caceric pienamente recuperata alla causa. Per il coach delle Rosso Blu Mimmo Sabatelli, la priorità sarà quella di difendere con forza e cercare di dare tanta sostanza nel corso di contesa. Complessivamente saranno 5 confronti di marzo per terminare la regular season, con chiusura del mese dove ci sarà spazio per la finalette di Coppa Italia proprio all'arena. Con palla a due alle ore 20, la gara sarà diretta dal Perugino Moretti, dal Genovese Puccini e dalla Ramennate Forni. Basket C-Gold, la seconda giornata della fase ad orologio in campo domani, la New Fortitudo Isernia a Chieti, mentre gioca domenica l'Air Termoli sul campo dell'Amatori Pescara. Le altre gare le vedete in grafica. Lasciamo il basket, occupiamoci di volley maschile di Serie B, il programma delle gare della diciottesima giornata con il match casalingo degli Spike Devils-Campobasso. Primo servizio alle ore 18, domani pomeriggio contro Virtus Roma. Vedete in grafica anche gli altri incontri con il match della capolista Sarroc con Appio Roma, gare che vedete che si giocheranno tutte domani pomeriggio. E dunque c'è la Virtus Roma sulla strada degli Spike Devils-Campobasso, usciti sconfitti nelle ultime due uscite di campionato, i motivi della vigilia ancora nel servizio di Vincenzo Ciccola. Riuscire a centrare il successo per bloccare la serie di due stop consecutivi con cui i rosso-blu hanno dovuto fare conti nell'ultimo periodo. Dopo le battute di arresto con la Lazio in casa e a Genzano, in entrambi i casi per 3-1, gli Energy Time Spike Devils-Campobasso ritrovano l'impianto amico per vedersela con la Virtus Roma, tra le grandi rivelazioni di questa stagione sotto rete. In settimana il tecnico Mariano Maniscalco ha cercato di dare al gruppo la giusta carica per riuscire ad uscire con forza in vista di quelli che saranno gli altri 8 confronti della regular season, con, nell'otto delle gare, la trasferta in casa del Cuscagliari, il match interno con il Sarroc e la sfida, sempre tra le mura amiche, l'altra grande rivelazione del torneo Roma 7, in bella evidenza. Con primo servizio domani alle ore 18, il match tra gli Spike Devils-Campobasso e la Virtus Roma sarà diretto dal cagliaritano Riccardo Faia e dal perugino Simone Magnino. Ancora pallavolo, ma di serie B2 femminile, il programma della diciottesima giornata con il match tra Cerignola ed Europea 92 Isenna, match che si disputerà domenica con primo servizio alle 18. le altre gare le vedete in grafica, domenica Francavilla-Bisceie, le altre gare tutte domani pomeriggio. Futsal di serie A2, tutti gli incontri si disputeranno domani nel pomeriggio, il Circolo e la Nebbia Cus Molise gioca tra le mura amiche contro l'Active Network, gioca in casa, e siamo al Futsal di serie B, gioca in casa anche lo Sporting Venafro contro Junior Domizia, fischio di inizio alle ore 16, le altre gare in grafica. Dunque due impegni casalinghi per Circolo, la Nebbia Cus Molise e Sporting Venafro, anche di Futsal, ci racconta tutto, Vincenzo Ciccone con le ultimissime. Sabato con entrambe le molisane del Futsal nazionale in casa. Nel girone B di serie A2 il CLN Cus Molise avrà di fronte a sé una sorta di spareggio con l'Active Network. Il tecnico del rosso blu Marco Sanginario potrà fare sordire l'ultimo Ernesto Silva, ma dovrà fare a meno degli squalificati Barrichello e Lucas, nonché degli infortunati Vinicius Solivere e Pacione. Ma dovrebbero rispondere presente, seppur non al meglio, Denisco e il Benafrano Labella, ex di giornata, con calcio inizio domani alle ore 16, a dirigere le operazioni saranno Matteo Ottaviani di Trieste ed Antonio Nappo di Ercolano, con cronometrista Fabio Capaldi di Isernia. In contemporanea, dopo nove stop in successione, cercherà di bloccare la sua serie nera allo Sporting Venafro, che sarà chiamato ad ospitare lo Junior Domizia, il tecnico Walter Primavera al solo Pollucci squalificato. A dirigere il match saranno il barese Antonio Valentini ed il formiano Pierpaolo Calenzo, con cronometrista il termolese Giuseppe Costrino. Bene, è tutto. Anche con la pagina sportiva, grazie per averci scelto. Vi ricordo che potrete seguirci anche sui social. Grazie dunque. Linea alla regia. Arrivederci. Musica 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 Grazie a tutti.